Si sono chiusi con la seduta di questa mattina i lavori della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo. Dalla prima riunione del settembre 2022 si sono svolti 19 incontri con decine di audizioni e confronti. Oggi è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha lodato il lavoro dei commissari e ha apprezzato l'intuizione del Consigliere Sara Marcozzi che ha promosso l'istituzione della Commissione e ne ha presieduto i lavori. La relazione finale è stata votata a maggioranza dei presenti. Domani, 16 marzo alle ore 11, la Marcozzi presenterà alla stampa i risultati dell'inchiesta.